Se lo aspettava, onorevole Bersani? Ma insomma, era un po' di tempo che si sentiva nell'aria, un problema del genere, non me l'aspettavo oggi. Se no non sarei neanche qui a rispondere, perché non... Così, non... Cioè, mi sembra che queste cose qui siano comunque, con tutta la stima per Zingaretti, eccetera, però ha molto la superficie il problema che ha la sinistra in questo momento, ma non da oggi, io lo predico, mi ho ascoltato da un paio d'anni ormai. Cioè, i problemi che ha la sinistra dopo questa svolta e la globalizzazione, una nuova destra che è arrivata e così via, non si risolvono stando in casa, ciascuno in casa a rigirarsi nel problema che poi dà luogo a queste cose. si risolvono in campo aperto, cioè con una novità. Lei sta dicendo che Zingaretti si è chiuso troppo nel palazzo del suo partito, diciamo così. Ma no, io ho sempre detto, ma lo dico, io non mi permetto di dire cosa deve fare il PD, ma dico che pensare di uscire da questa fase con i vecchi attrezzi e basta, lo dico per Mertico, l'Unoleo, lo dico per il PD, eccetera, lo dico per i Verdi, lo dico, diciamo, questi mondi che possono comporre una sinistra plurale, eccetera, senza mettere in campo un percorso costituente, un progetto nuovo, senza chiamare le forze che si sono allontanate, senza dare una nuova prospettiva, si finisce poi per, si finisce in queste situazioni, a rigirarsi nel problema, sempre più piccoli, sempre più stretti, a farsi il sangue amaro in casa propria. Lei sta dicendo una cosa molto importante, però anche molto grave, che Zingaretti non ha messo in campo dei progetti, delle idee nuove per dare una svolta al partito. Zingaretti faccia quel che ritiene, io penso questo, che lui, ma tutti lì, insomma, ci vuole la generosità di dire apriamo, mettiamoci una novità, mettiamo una fase nuova. Io credo che sia questa la via d'uscita, per tutti, per altre cose, vale anche per i 5-6, lavarsi i panni in casa, non basta più. Però lei conosce bene...